Craccia ha un po' di difficoltà nel primo tempo, soprattutto in fase di costruzione. Cosa è successo? Sì, diciamo che pronti via loro venivano a pressarci molto alti, quindi noi faticavamo molto a uscire. Devo dire che dovevamo analizzare forse la partita un po' meglio fin da subito, però comunque sono stati bravi anche loro. Noi dobbiamo analizzare, come ho detto prima, in settimana le cose che sono andate meno e quelle che sono andate di più. Allora, torno alla considerazione che hai fatto, che avete fatto fatica ad uscire sulla loro pressione. È quello il ruolo tuo preferito davanti alla difesa per giocare da vertice del centrocampo a tre o preferisci più una mezzala di struttura, di corsa o magari anche di rottura? No, diciamo che non ho un ruolo preferito. Io nel senso in mezzo al campo penso di fare tutti i ruoli. Mi metto a disposizione del mister, dove mi dice quello che fare, io mi metto a disposizione. Poi ovviamente mi piace comunque avere la palla tra i piedi, mi piace giocare, però qualsiasi ruolo è io lo faccio con impegno e tutto. E' essere preoccupati per questa partita contro Rimini o siamo ancora lontani dal campionato, siamo in work in progress, in rodaggio? Ma da come la penso io, all'armismi non c'è bisogno di farne perché comunque sono sempre partiti di precampionato. Ovviamente c'è da analizzare bene quello che non è andato, quello che è andato e c'è da fare questo. Poi si lavora in settimana e si prepara bene la prossima. Ti chiedo un'ultima cosa, ci è voluto tempo per avere il tuo trasferimento ufficiale a Pescara, ma che cosa era successo in quelle settimane? Niente, non è successo niente. Come ho detto anche alla squadra, appena ho avuto la chiamata, io sono stato molto lusingato da quella del Pescara. Ovviamente ci sono delle situazioni da risolvere internamente, però sono state gestite benissimo e appena ho avuto la possibilità sono venuto qua subito.